Quante volte sono salita su un palco arrabbiata e ho cercato di trasmettere tutta quella che era la sofferenza, il dolore, che provavo a vivere una situazione come quella dell'impotenza, perché questo è quello che ci hanno fatto pensare, che eravamo comunque impotenti davanti al sistema, davanti a una battaglia che sembrava più grande di noi. Piano piano questa rabbia si è trasformata in consapevolezza. Prima i ragazzi della lista mi hanno chiesto, dacci un consiglio, se mai dovesse accadere che vinciamo, io lo auguro alla città, lo auguro al paese, che piano piano, comune dopo comune, pezzo dopo pezzo, il Movimento 5 Stelle sia quel virus che contagia in maniera positiva le coscienze delle persone. E la cosa che gli ho detto, gli ho detto, guardate, il giorno stesso se dovesse accadere che venite letti, aspettatevi di sentirvi criticare, di dirvi immediatamente dopo che non valete niente, che è tutto difficile. Quando metterete le mani all'interno di un'amministrazione scoprirete che c'è peggio di quanto avreste mai potuto immaginare. Rendetevi conto che ci saranno i primi sei mesi nei quali penserete, chi me l'ha fatto fare? Perché è così. E' così io tanti giorni mi sveglio e mi dico, ma chi me l'ha fatto fare? Sì, io sono uscita la seconda volta dall'ospedale e il 90% delle nostre patologie, c'è finito Luigi, c'è finito Buonafede, sono lo stress. Perché se non lo fai perché hai un interesse tuo proprio che riguarda di andare a fare un accordo con la multinazionale, con la lobby, con l'amico, perché hai promesso qualcosa, ma lo fai per il paese e ti rendi conto che tutto il resto della politica se lo fa per i peati cavoli suoi, stai male, stai male, dici come posso aiutare? E allora noi abbiamo un obiettivo oggi, fra poco tempo è Ardea, più là, perdonatemi, sto dentro quei muri da quattro anni e me lo sogno il giorno di poter entrare là dentro perché quelle mura saranno la possibilità di governare in maniera differente il paese, di usare le istituzioni finalmente per quello che servono, per risolvere i problemi. I problemi invece non si risolvono perché il problema consente di ricattare la persona, finché tu hai un problema sei ricattabile, te lo devo risolvere, se io non te lo risolvo tu continuerai ad avere quel problema e dovrai venire a chiedermi il favore, perché se io ti risolvo il problema tu non hai più bisogno di me, tu hai una situazione che funziona e allora io che sono in commissione sanità, l'ultima cosa nella quale mi sono imbattuta e la rendiamo pubblica perché poi è pubblico che la Raggi si è svegliata con il raffreddore però non è pubblico che uccidono quasi 13 mila persone l'anno in Italia, le uccidono. Voi sapete, se non lo sapete oggi ve ne metto a comunione insieme a me, è stato trovato il farmaco che cura l'epatite C, una patologia mortale della quale ancora oggi muoiono 30 persone al giorno, 1000 persone al mese, qualcosa in più perché si arriva a 13 mila persone l'anno. Ed esiste questo farmaco che si chiama Sovaldi che salva la vita delle persone, allora tu già che vivi in un paese dove sai che c'è un farmaco che può salvare la vita delle persone e ad oggi ne muoiono 13 mila l'anno, qualche domanda te la fai e ti dicono sì, ma è un farmaco innovativo, costa tantissimo, una sola cura costa 45 mila euro al servizio sanitario nazionale, se la vuoi fare privatamente te ne costa 74 mila. Ovviamente tu dirai è un farmaco innovativo, sarà costato tantissimo nella sperimentazione. Andiamo a vedere come il Ministero è arrivato a questo prezzo. Il Ministero usa AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, per fare le contrattazioni con le case farmaceutiche. In questo caso stiamo parlando della Gilead, una casa farmaceutica che produce appunto, io faccio nomi, cognomi, vi dico gli enti. All'epoca il presidente dell'AIFA e il direttore dell'AIFA era Luca Pani. E andiamo a vedere e scopriamo che questa trattativa è stata una trattativa secretata. Non sappiamo come si è arrivato a questo prezzo. Però tu non ci vuoi credere fino in fondo che questo paese faccia così schifo e che si possa giocare sulla vita delle persone. Non ci vuoi credere. Quando però ti informi e arriva una direttiva da parte del Ministero il 23 marzo, dove dice che se c'è un farmaco che può salvare la vita, che però il servizio sanitario nazionale non riesce a darti, tu puoi andare all'estero a comprarlo. Perché? Perché lo stesso farmaco in Egitto costa 900 dollari. 45 mila euro in Italia, 900 dollari in Egitto. Ma questo, quale dei due è il paese sviluppato? Che ci vengono a raccontare? Che noi siamo il paese civile, no? Noi siamo il paese civile. Un paese che ti manda una direttiva e ti dice se te vuoi curarvi l'anno all'estero, te compri il farmaco, ritorno in Italia perché se no per me puoi pure da morire. Non è un paese civile, è un paese che fa schifo. È un paese che quando verranno a chiedervi il voto, perché verranno a chiedervi il voto, perché non hanno capito che il mondo è cambiato, non hanno capito che il Movimento 5 Stelle ormai non lo fermano più, è entrato nelle coscienze, fa parte di quando ti svegli. Non hanno capito che tu la mattina ti svegli con un'altra idea. Che io che fumavo e buttavo la città per terra, non mi diam male se la butto. Che ho fatto un parcheggio sulle strisce pedonali, santo il Dio, ma metto in tasca piuttosto che t'abbe la possibilità di romperci le scatole. E lo faranno, perché te sei svegliato e non ti sei fatta la barba, perché guardate si è messa la maglietta bianca, perché quella c'aveva il cugino del fratello, del zio, del nonno che votava PC. Questo è, è questo che dovete aspettare. Guardate se c'avete Navo che ha fatto una stronzata, perché lo verranno a trovare e sarà sulla prima pagina di tutti i giornali, ma del sindaco di Terni che se lo so ha bevuto non ne ha parlato nessuno, nessuno, nessuno. Qui parlano solo di quello che fa comodo a loro, è un meccanismo perverso, sono tutti legati insieme, più si raffanti più stanno tremando, hanno paura e noi la paura la sentiamo, la sentiamo quando non si parla mai di legge elettorale, perché non hanno trovato la guada, perché non sanno se gli fa più comodo Verdini o se gli fa più comodo Berlusconi, non hanno ancora capito chi chiedete più, quanto te devo dare, quante poltrone voi, voi siete ministro, te che? Così funziona. Qualcuno ha detto il programma? Frenzi si è uscito con tre parole, lavoro, casa e mamma. Qui ci sarebbe bene una battuta romana che io non farò, non farò. No perché poi me ne pento, poi me ne pento e non la faccio no. Non mi lascia? Ognuno ha la mamma che se merita voglio dire. E Renzi il figlio di chi è? Lo sappiamo con tanto rispetto per la mamma. Perché poi quando tu ti comporti così con un paese, ma che ti devo dire? Ma che ti devo dire? Sei stato lì dentro tre anni e non mi vieni a dire che cambierai il paese. E se tre anni che stracavola hai fatto? Se tre anni tutti i provvedimenti, noi siamo gli inesperti, tutti i provvedimenti che hanno presentato erano per la maggior parte incostituzionali. Quelli che non erano incostituzionali hanno distrutto il paese, il job sack, la buona scuola, le soldi e banche. Cosa vanno dato? E allora la consapevolezza è che il giorno che si avvicineranno, perché io lo so, Mario, quale sarà la sua campagna elettorale, quella del Movimento 5 Stelle. Verrà lì e dirà come vanno detto i ragazzi. Io là dentro cerato, mi metto in gioco, ma tu devi venire con me. Tu anche se non entri, se non sei eletto, e il giorno dopo devi stare davanti a casa tua e raccattare la cicca perché funziona così. O se vedi quello che gli fa fare la cacca al cane per strada, gli dici senti, lo porti in sacchetto per favore, perché io mi sono rotto le palle se cacca la cacca del cane tuo. Così funziona il Movimento 5 Stelle. Senza paura, perché c'è voglia. E allora quando invece gli altri verranno e ti diranno che ti serve, ditegli che sinceramente non ci serve più niente, che quello che ci dovevano dare ce l'hanno dato. Siamo concapevoli che è una gran manica di fregature quello che ci hanno dato e che ci daranno. E che forse con un po' di sacrificio, perché il giorno dopo sarà difficilissimo, ma un po' di sacrificio passo dopo passo, comune dopo comune. Signori, c'è un Paese che ci aspetta. Non lasciamoglielo più in mano. Io vi ringrazio, grazie Arvia. Io vi saluto a voi a Mario. Grazie.